l'introduzione e alcune valutazioni in merito al libro scritto dal dottor De Magistris. Buongiorno a tutti. Dottor De Magistris, ci siamo conosciuti il 27 marzo del 2003, sono passati da poco 20 anni, quando, a seguito di una mia denuncia, nacque il procedimento Toghe-Lucane, che poi si chiamerà Toghe-Lucane. Io ho portato con me la prima pagina della chiusura delle indagini di quel procedimento, quindi sono passati 20 anni e sono 20 anni della nostra vita, ci consegnano da 45 anni a 65 anni, quindi è cambiato tanto. Perché io, che non avevo mai frequentato le aule di giustizia né i pubblici ministeri, non sapevo neanche che differenza ci fosse fra un pubblico ministero e un giudice, fra un giudice inquirente e il magistrato requirente. Perché io sono figlio di un carabiniere e ero abituato, avevo l'idea che quando c'è un'ingiustizia, quando uno ritiene di aver subito un'ingiustizia o di aver scoperto un'ingiustizia, debba rivolgersi alle istituzioni. E in quel caso l'istituzione era la procura di Catanzaro. In questi 20 anni quello che è cambiato da questa impostazione, non che non bisogna rivolgersi alle istituzioni, è che non è una questione di leggi, di valori, come si dice spesso, di Costituzione, o meglio, non solo di leggi, di valori e di Costituzione, che ovviamente vanno rispettate, ma è una questione di uomini, cioè all'interno della vita di una persona, quello che regge nel tempo, non è la legge, non è neanche il rispetto della legge, che ovviamente ci deve essere, o il rispetto della Costituzione, ancor più fondamento del nostro ordinamento, ma sono i valori. E i valori sono distribuiti in maniera democratica, nel senso che ci sono persone dentro le istituzioni e fuori le istituzioni che hanno dei valori da portare avanti e che sostengono la loro vita e persone dentro le istituzioni e fuori le istituzioni che hanno dei valori, diciamo così, meno condivisibili. Ora, questo libro, che non analizzo nel dettaglio perché racconta fatti e fa anche tanti nomi, e alcuni sono impressionanti, sia per i fatti sia per i nomi fatti, questo libro racconta in realtà la vita di vent'anni, anzi di cinquant'anni del dottor De Magistris, lui la riprende da quando era ragazzo e racconta le motivazioni che l'hanno portato a fare il lavoro che ha fatto, il percorso scolastico che ha seguito, anche la formazione che ha vissuto, sino ad arrivare a dettagliare poi abbastanza, come devo dire, specificamente alcuni fatti che sono accaduti. Ora, non entriamo nel merito dei fatti, se no diventerebbe un racconto anche abbastanza difficile per chi lo segue, approfondirlo troppo. Però, voglio dire che cosa matura attraverso questi fatti, qual è l'esperienza che io ho vissuto vivendo parte di questi fatti in prima persona e altri fatti come conoscitore delle storie che sono accadute. Quello che matura nel tempo è una coscienza di appartenere ad un popolo, di appartenere ad una realtà, di appartenere ed è anche la coscienza di essere riconoscenti verso il popolo a cui si appartiene, verso la storia a cui si appartiene, per cui vale la pena di spendersi. Cioè, non vale la pena di spendersi per il rispetto astratto della Costituzione o per il rispetto astratto delle leggi, per difendere. Vale la pena di spendersi per la Costituzione, per le leggi, se dentro ci spendiamo per il bene comune. Cioè, se ci spendiamo per utilizzare uno strumento che ci siamo dati, ma con il risultato di raggiungere il bene comune. Il risultato che si raggiunge o non si raggiunge, il primo risultato che si raggiunge vivendo così è il gusto della propria vita. Cioè, uno vive la vita con il gusto di fare delle cose, con il gusto di impegnarsi, non di credere astrattamente in dei valori, ma di vivere alcuni valori. Questo ha trasformato il rapporto istituzione-denunciante, nel mio caso, in un rapporto di amicizia. Adesso, il dottor De Magistris, Luigi, non è più nelle istituzioni, inteso come non fa più il PM, non fa più il magistrato, ma è nata un'amicizia che, devo dire, nel nostro caso, anche a prescindere da una visione culturale e anche da una formazione molto diversa, da un'impostazione molto diversa, ci rende facilmente riconoscibili come attenti al bene comune. Di tutta la parte tecnica del libro, solo due fatti velocissimi voglio approfondire, perché non sono approfonditi nel libro, anche se meriterebbero tantissime pagine di approfondimento. Ad un certo punto, leggerete a pagina 126-127, che il ricorso avverso alla sentenza che aveva condannato De Magistris al trasferimento, che aveva disposto il trasferimento, il ricorso avverso a quella sentenza viene presentato con qualche giorno di ritardo, quindi fuori dai termini, per cui non viene preso in considerazione. La Cassazione dice fuori dai termini non si può considerare. Questo è uno. Casualmente succede che l'avvocato che ha ritardato o che ha presentato in ritardo questo ricorso, poi diventa membro della Corte Costituzionale. E c'è un altro caso che noi ricordiamo che ha riguardato le inchieste di De Magistris, un altro ricorso presentato con un giorno di ritardo, è il ricorso in Cassazione avverso alla sentenza che assolveva la residua parte di Toghe Lucane nell'inchiesta Marinagri. Cioè c'è un modo di utilizzare le leggi che consente di aggirarle. Basta presentare il ricorso con un po' di ritardo. Cosa aveva scritto il magistrato che presentava il ricorso avverso alla sentenza di assoluzione di Marinagri? L'incipit di questo ricorso dice così La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro è affetta da inosservanza o erronea applicazione della legge e da mancanza e contraddittorietà manifesta in logicità della motivazione risultante manifesta in logicità della motivazione risultante del provvedimento ed in particolare. Cioè il magistrato che scrive questo ricorso dice che hanno applicato erroneamente la legge quando hanno dichiarato la soluzione però presenta il ricorso con un giorno di ritardo. Quindi dice una verità ma nessuno la potrà accertare in via giudiziale. L'altro aspetto che racconto anche questo molto brevemente è la vicenda del sequestro contro sequestro a pagina 136 135-136 e cioè succede che a seguito delle inchieste nate dall'inchiesta a carico del dottor De Magistris di Luigi De Magistris la procura di Salerno si convince che ci sono delle gravi irregolarità commesse dai magistrati di Catanzaro che hanno fatto in modo di togliere l'inchiesta di depotenziare le inchieste di De Magistris. Quindi la procura di Salerno dispone il sequestro degli atti di una grande quantità di atti a carico dei magistrati quindi vanno i carabinieri da Salerno a Catanzaro e fanno le perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei magistrati di Catanzaro e sequestrano una grande quantità di atti parliamo di quasi 200.000 pagine di atti di documenti oltre documenti ebbene una cosa che è facile da capire anche per chi non è un giurista i magistrati che hanno subito il sequestro firmano un ordine di sequestro del sequestro che avevano subito cioè come il libro dice come se il ladro arrestasse il poliziotto che va ad arrestarlo cioè i magistrati si contro sequestrano ora questo sistema ancorché aberrante dal punto di vista giuridico è un sistema che viene addirittura avallato cioè viene coperto giustificato dal presidente della repubblica dell'epoca da Napolitano questo fa tremare le vene dei polsi a chi ha una idea della istituzione perché è impensabile che il presidente della repubblica avalli un'opera un'operazione giudiziariamente inspiegabile ma vi è un fatto aggiuntivo il fatto aggiuntivo è che questi oggetti questi atti sequestrati queste 200.000 la pagina oggi non ci sono più né gli atti originari che erano stati sequestrati né la copia che ne era stata fatta e come viene fatta questa operazione per far sparire questi atti gli atti originari che erano stati fotocopiati e sequestrati vengono spezzettati dal magistrato che gli eredita dal dottor De Magistris il magistrato che lo sostituisce quando lui viene trasferito in fretta e furia eredita l'inchiesta Toghe Lucane è un'inchiesta di 200.000 pagine il primo atto che compie questo magistrato è distribuire diversamente i fascicoli cioè si trattava di 119 fascicoli faldoni 200.000 pagine lui li distribuisce in maniera diversa quello che era faldone numero 1 diventa faldone numero 5 per metà per un quarto per un terzo quello che era faldone numero 5 diventa numero 4 quindi riorganizza gli atti ma la conclusione delle indagini firmata da De Magistris faceva riferimento ai faldoni originari quindi diceva le prove dei delitti che si ipotizzano a carico di Tizio si trovano nel faldone numero 1 a pagina 7 le prove dei delitti a carico del signor Caio si trovano nel faldone numero 5 e così via per cui non c'è più una corrispondenza fra la chiusura delle indagini e i faldoni e l'inchiesta viene archiviata gli atti portati a Catanzaro portati a Salerno spariscono nel senso letterale del termine cioè vengono messi in un camioncino dei carabinieri e da questo camioncino non tornano più indietro per cui oggi tutta l'inchiesta Toghe Lucane non c'è più cioè non è più possibile ricostruire niente dell'inchiesta Toghe Lucane questo corrisponde alla distruzione di atti per cui di Toghe Lucane l'unica cosa che si può leggere sono le copie non sono poche che abbiamo fatto noi giornalisti all'epoca per documentare e chiudo solamente con una considerazione dopo aver letto e riletto diciamo questa storia perché rileggerla per me vuol dire ricordare dei fatti io arrivo alla determinazione che pubblicherò tutti gli atti dell'inchiesta Toghe Lucane e anche dei 499 processi che sono scaturiti a mio carico dall'inchiesta Toghe Lucane 499 procedimenti giudiziari che spiegano tutto quello che è stato fatto per mettere a tacere il giornalista perché seguire 499 processi anche per chi non ha esperienze specifiche nell'arco di dieci anni vuol dire passare alcuni anni interi per tutti i giorni nelle aule di tribunale e non di un tribunale nelle aule di Catanzaro di Salerno di Napoli di Cosenza di Roma di Milano Salerno potenza cioè vuol dire avere udienze sparse per l'Italia questo lo sanno bene l'avvocato Pinto che in molti di questi atti era presente l'avvocato Montagna che in altri atti era presente l'avvocato Sisto che non so se è venuto forse sarebbe venuto oggi cioè un modo per mettere a tacere perché non non ha funzionato questo modo perché di questi atti abbiamo conservato le copie e perché queste copie diventano la documentazione di quello che abbiamo fatto in conclusione dico anche una domanda che poi a cui chiedo risposta alla fine da tutta questa storia sembra che venga fuori che il sistema è imbattibile cioè è talmente radicato talmente il cosiddetto sistema fra virgolette cioè un nel sistema che il sistema in cui viviamo tutti e di cui siamo contenti di vivere nel sistema democratico che si è data l'Italia per governarsi ci sono delle infiltrazioni talmente ad alto livello e talmente potenti che sembra che non si possa fare niente che non si possa cambiare niente allora raccontarci queste storie per dirci che non si può cambiare niente non avrebbe senso servirebbe solo a rattristarci ancora di più per cui la domanda è dopo questa esperienza dopo la maturazione di questi vent'anni che sono passati su questi temi che cosa possiamo fare noi oggi pomeriggio o domani mattina perché oggi pomeriggio siamo impegnati a Stigliano diciamo da domani mattina c'è una possibilità c'è la possibilità di cambiare va la pena di tentare il cambiamento io finisco così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti